Ciao, mi chiamo Valerio Tarricone, sono un ex studente della Lapa di Firenze e vivo a Vancouver in Canada. Lavoro nel campo degli effetti speciali per il cinema, per la pubblicità e per i film d'animazione. Insieme alla compagnia Double Negative abbiamo vinto l'Oscar per i migliori effetti speciali per il film Blade Runner 2049. Attualmente lavoro presso una compagnia di nome Cinesite, sul film La Famiglia Adams 2. Il mio titolo nello specifico è quello di FX Technical Director, ovvero mi occupo di ricreare simulazioni degli agenti atmosferici come fuoco, la neve, la pioggia, tornadi, ma anche simulazioni in stile magico, come ad esempio film di Harry Potter, trasformazioni incantesimi. Nella Lapa di Firenze ho un ottimo ricordo. Ho studiato Graphic Design e Multimedia, la laurea triennale. Ricordo professori come Piero Fragola, con cui ho creato la tesi sul corso di Music Video, un'animazione 2D in flash, un stile mix tra steampunk e art nouveau. Inoltre ho anche un ottimo ricordo per quanto riguarda le attrezzature della Lapa, i computer che utilizzavamo di ultima generazione, macchine fotografiche, il laboratorio di pittura, veramente molte attrezzature e strumenti all'avanguardia che utilizzavamo già quando io studiavo la Lapa, quindi parliamo di sei anni fa, sette anni fa. Un altro ottimo ricordo della Lapa è l'atmosfera di amicizia che si creava all'interno dell'Accademia, la possibilità di essere amici, diventare amici con studenti del mio corso, anche di altri corsi, veramente questa atmosfera familiare che faceva parte dell'Accademia. è una delle ottime qualità che ricordo. Il mio consiglio per i studenti della Lapa di Valencia è quello di credere sempre nei vostri sogni, focalizzandovi sui vostri obiettivi, anche essendo un po' testardi. Una delle cose principali è quella della creazione dello showreel, ovvero la collezione di tutti i vostri ultimi lavori che pensate siano quelli più brillanti. È importante che vi focalizzate su un dipartimento in particolare, ad esempio nel cinema, ci sono diverse sezioni, tra cui l'animazione, il rigging dei personaggi, la modellazione. Soltanto focalizzandovi su uno di questi settori potete creare uno showreel che sia adeguato a mostrare la vostra figura professionale e poi infine essere selezionati magari dal vostro datore di lavoro. Ecco, questa è una delle cose più importanti. Infine, volevo salutarvi da Vancouver e mandarvi un grande in bocca al lupo. Ed ecco, ripeto, ricordate di seguire i vostri sogni e di focalizzarvi sul vostro obiettivo. Ed è il consiglio, quello che mi sento, di darvi la cosa più utile che è anche stata fondamentale per la mia esperienza e per la mia carriera fino ad oggi. Grazie a tutti e un saluto.